Comincia la seconda udienza, processo alle firme, giudice, accusa, difesa e giuria popolare stanno per prendere posto sul palco. Si apra il processo alle firme, l'imputato e anche il microfono perché è acceso ma finge di essere spento. L'imputato e solo le firme ma in particolare potremmo dire che abbiamo un sottoimputato perché c'è un decreto del 2013 ecco finalmente l'imputato microfono che è un sotto sottoimputato finalmente smette di esserlo perché inizia a funzionare perché questo decreto del 2013 è l'unico che abbiamo al momento, è quello che è in vigore e ci chiediamo se è adeguato e effettivamente se lo è o sta frenando l'evoluzione delle firme, delle firme elettroniche ovviamente. Cercheremo di capire se la situazione quindi è ottimale l'evoluzione tecnologica oppure se i nostri imputati devono andare in gattabuia. Primo invito il testimone, prego si accomodi, testimone non faccia aspettare nessuno, ah è già qui, bene, ok. Buongiorno a tutti, mi permetto di fare una premessa signor giudice e la premessa parte da questa fotografia. Chi vi parla sono circa 30 anni che parla di digitalizzazione dei processi, da circa 25 con la LEND, prima con una multinazionale americana. Ma gli uffici che incontro quotidianamente, le scrivanie degli uffici sono proprio come questa fotografia, sono tutti quanti piani di carta. Quindi la domanda potrebbe essere di chi è la colpa? La colpa sicuramente è anche degli strumenti che mettiamo a disposizione per digitalizzare i processi. La firma digitale è complicata, è qualcosa che ci disumanizza quelle attività, ma non perdiamo il filo della ragione quando sviluppiamo delle applicazioni per gli utenti, soprattutto quando parliamo di firma digitale, perché tutti i processi di firma digitale, soprattutto utilizzando gli strumenti tradizionali, quindi smart card e token USB, sono complicati. E sono complicati perché? Perché ci rallentano le operazioni, quindi noi siamo oltremodo fuori dai processi tradizionali a quelli siamo abituati. Tutti quanti parliamo di back-end, ma poi sono gli utilizzatori che cercano di dare sfogo alle loro attività nella maniera corretta. Ci pensate quanto è complicato con una smart card firmare 50 documenti uno dietro l'altro? Quanto tempo ci vuole in maniera analogica e in maniera digitale? Sicuramente con la smart card è molto più lento rispetto a mettere una sigla su tutti quanti i documenti. L'altra domanda è, ma noi siamo digitali oppure no? Vediamo le statistiche e scopriamo che 31 milioni di persone, 31 milioni di italiani, utilizzano gli smartphone per connettersi a internet, soprattutto per connettersi a internet e per fare cose. Fare cose soprattutto a livello personale, quindi non a livello aziendale. E in quel caso gli italiani sono estremamente digitali. Non ho mai visto un profilo di Facebook stampato e fatto vedere in maniera cartacea. Quanti di voi oggi, qui escluso l'amico Giovanni, che è un fuori quota ma comunque è un tablet, non hanno uno smartphone in mano in questo momento? Penso veramente pochi, forse nessuno, però ti ho escluso dal test, quindi non c'eri. Quindi questo potrebbe essere uno strumento che ci aiuta. Ci aiuta a digitalizzare i processi. La firma remota cerca di rendere, di astrarsi dal normale utilizzo di cose fisiche e quindi aiuta la digitalizzazione dei processi, fermo restando il decreto sottomputato che diceva il nostro giudice prima e quindi il decreto che è comunque sempre lo stesso, eccetera, e quindi mantenendo comunque la stessa logica legale dei documenti che vengono prodotti, utilizzare la firma remota insieme con sistemi che gestiscono le transazioni, che possono essere blockchain, che possono essere DB, che possono essere qualsiasi cosa, sicuramente aiutano la digitalizzazione dei processi. Oggi ci sono tecnologie che non sostituiscono i workflow, le attività, quanto sviluppato fino a oggi nell'interno delle istituzioni, nell'ambito delle aziende a livello di workflow. Nessuno vuole sostituire niente, ma cerchiamo di umanizzare e di rendere fruibile a tutte le persone le nuove tecnologie di firma, quindi la firma remota nel caso specifico, aggiungendo delle feature in più, delle caratteristiche in più che tendono a umanizzare i processi. Non voglio soffermarmi su ognuno di questi, però vi faccio solo dei piccoli esempi. Voi sapete che quando viene emesso un documento, è firmato digitalmente, poi si manda via mail, si gestisce con la PEC, si fanno un sacco di cose, si gestiscono tantissimi duplicati dello stesso documento digitale. Ma se quel documento deve essere annullato, per esempio, perché c'è un vizio di forma, per un qualsiasi momento, o sospeso o revocato. Oggi è complicatissimo, perché con il cartaceo era facile, mi riporti l'originale, lo strappiamo e ne creiamo un altro. Con il digitale un bel po' più complicato è come attività. Oggi riusciamo a gestire dei registri che si possono sommare a quelli tradizionali, e possono anche sincronizzarsi con quelli tradizionali, che riescono a gestire un processo di annullamento, revoca o sospensione di un qualsiasi documento. Qualsiasi documento, sia tradizionale, sia documento insieme di documenti o insieme di informazioni, perché oggi siamo abituati ai documenti tradizionali, quindi a quello che abbiamo sulla scrivania, ma siamo poco abituati ai nuovi modi di gestire le informazioni. Io la fatturazione elettronica la vedo e l'ho vista, ma ho visto anche un sacco di fatture elettroniche stampate, sempre sulle scrivanie degli utenti. Volevo concludere questa cosa con un piccolo parallelo. Io vedo la firma digitale di nuova generazione con questo sistema tradizionale, un po' come vedevamo qualche tempo fa i vecchi televisori col tubo catodico. Firmare con la smart card e con le vecchie tecnologie è come mettere in parallelo due televisori, uno col tubo catodico e uno magari OLED da 50 pollici, uno vicino all'altro con le stesse immagini. Uno si vede sfocato e poco evidente, l'altro si vede in maniera molto chiara, più grande, più definito, si vede tutto in maniera più chiara. Ecco, secondo me la firma tradizionale, la firma con smart card, è il tubo catodico e il televisore OLED è la firma remota e le nuove tecnologie che le accompagnano. Io ho terminato, credo di essere stato nei tempi. Grazie. Grazie, signor testimone. Vedo l'accusa alla mia sinistra. Accusi, accusa. Sì, grazie dell'invito, anzi non proprio, nel senso che mi è stato affidato un ruolo difficilissimo, un'accusa diabolica. In primo luogo perché come contoparte o Giovanni Manca, che è come avere in un processo vero, non so, Giulia, buongiorno, o qualche cosa di simile. In secondo luogo perché la firma remota l'ha sviluppata lui e da un lato sono in conflitto di interessi perché mi legano rapporti di amicizia, nonché di stima e quant'altro. Quindi devo fare un certo sforzo... Accusa resti sull'accusa. Quindi se è rispetto dei tempi, non sarà un problema per il mio intervento perché mi limiterò ad alcune note. Oltretutto ho anche sviluppato in parte il sistema di firma remota del notariato, quindi questo mi pone ulteriormente in conflitto di interesse. Volendo proprio mettere i puntini su l'EI, c'è da dire che gli inizi della firma remota non sono stati proprio dei migliori, nel senso che all'inizio c'era un approccio che era un po' come dire chiedere all'oste se il vino era buono. Si chiedeva al certificatore di dire ma il tuo sistema è sicuro? Sì, è sicuro. Perché? Perché te lo dico io e va bene. Anche la prassi dei continui rinnovi che il legislatore ha posto in estere non hanno giovato all'adozione del sistema e alla reputazione del sistema. Diversi decreti che hanno continuamente rinnovato e prorogato i termini con cui mettersi a norma con le certificazioni. E operatori non corretti, ci sono tutta una serie di prassi che qualche anno fa venivano posti in essere che erano ai confini o quasi della giocoleria delle chiare di firma nel senso che venivano scambiate, accoppiate variamente con i pin o ancora dei box di firma in apparati non certifica che qualcuno chiamava i ju box di firma e quant'altro. Tutto ciò se si considera che il sistema delle firme è appunto un sistema e ha la forza del suo anello più debole chiaramente non giovava alla credibilità del sistema. Oggi devo dire che la firma remota può senz'altro dirsi un sistema assolutamente sicuro e anzi se vogliamo aggiungere una nota di colore che poi non lo è tanto laddove l'OTP venga fornito non magari su una chiavetta normale di OTP ma sull'utenza di telefono cellulare quello che si è riscontrato ad esempio l'ho noto nel notariato e che sono tutti preoccupatissimi perché non possono più dare la smart card alla segretaria perché il telefono non lo danno alla segretaria e quindi paradossalmente la firma remota con fornitura dell'OTP su un'utenza cellulare vincola ancora più il firmatario a utilizzare personalmente il dispositivo di firma. Quindi in un'ottica di favor rei non posso che chiedere l'archiviazione del procedimento. Ci serviva un'accusa più accusante. Si ammetto smesso agli atti. Vuole essere lei la... No. Passo la parola alla difesa. Buongiorno a tutti. Allora, quelli che mi conoscono maggiormente sanno che a mio malgrado sono testimone oculare più che difesa su certi argomenti e la firma remota mi ha visto, ahimè, fortemente correo più che difensore. Però la firma remota che guarda caso quindi complimenti agli organizzatori del Digit compie dieci anni che la firma remota comincia a vaggire per la prima volta nel febbraio-marzo del 2008. E poi, insomma, chi mi conosce bene sa che anche ho qualche byte di memoria. Dove praticamente c'è una sorta di ribellione popolare sul rapporto fra smart card e computer. Cambia la smart card, cambia il driver, cioè era abbastanza complicato nonostante le buone cure di una nota azienda di origini vesuviane perché sta proprio sotto al Vesuvio originalmente che metteva un po' di pezzi era piuttosto instabile il rapporto fra la smart card e il lettore indispensabile gli smartphone erano di là da venire eccetera eccetera. E non erano rare frasi del tipo abbiamo attivato la firma digitale nella nostra organizzazione ma è stato un bagno di sangue. Cioè era una frase io ero la vigilanza all'epoca lavoravo al CNIPA e quindi ho detto vabbè vediamo cosa possiamo fare e abbiamo fatto una serie di cose. Se non arriva prima il mercato e il regulator quindi anche la vigilanza perché ero il dirigente responsabile della vigilanza al CNIPA non succede niente e il mercato è arrivato con l'OMAT romano del 2009 e due aziende che vanno citate che sono Adobe e Endixor misero insieme un'applicazione di firma e un HSM che per i non tecnici è una smart card cresciuta che sta là firma remota in inglese è ancora più efficace il termine server side signature e naturalmente dovevano essere mantenuti gli elementi della firma remota che è firma qualificata normale il fatto che non abbia il controllo fisico al dispositivo non è limitante e la firma remota dal punto di vista legale non differisce dalla firma con la smart card o il token che negli anni poi si è affermato quindi leggo un pezzettino del depliant perché ci sono elementi drammatici nella nostra storia ma ci sono anche elementi tecnici nella nostra storia dalla brochure di Adobe dell'evento per facilitare l'adozione della firma digitale in tali contesti cioè la smart card e altra amenità può essere utile cambiare approccio per esempio adottando una soluzione di firma remota con firma remota prima ancora che lo definisse la norma lo definisce il mercato si intende un'operazione di firma digitale eseguita con una chiave privata non residente su un dispositivo locale dell'utente come la smart card bensì custodita presso un provider remoto all'interno di un HSM che è un dispositivo grittografico hardware questa tecnica consente di eliminare alla radice tutte le complessità legate all'uso di dispositivi locali e quindi consente di semplificare drasticamente l'esperienza d'uso dell'utente bla 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 a questo punto si è scatenato Giovanni Manca che ha avuto grossi ostacoli nell'affermazione legale ma ha avuto due alleati uno è il ministro dell'epoca famoso per il suo carattere dolce e gioviale di nome Renato non mi fatemelo citare insomma e Rita Forzi all'epoca al ministero delle comunicazioni che ha sviluppato le tematiche di sicurezza ed è stata l'ultima grande storia di successo di questo paese perché? perché il mercato ha anticipato le istituzioni hanno ascoltato le istituzioni hanno collaborato le istituzioni che sono tipicamente disomogenee ognuno si fa per conto suo a un certo punto hanno trovato una sintesi e addirittura il ministro ha supportato l'oggetto e una grossissima banca grossissima ha interfacciato il ministro per dire quei signori di agiti io e l'ingegnere Pontevolpe stanno lavorando bene quindi politica non blocca la cosa e abbiamo vinto o abbiamo perso abbiamo stravinto cioè Juventus Milan io sono del Cagliari figuratevi un po' insomma quindi mi posso permettere di parlare di Juventus e Milan oggi ci dicono i dati di agiti ufficiali che i certificati digitali rilasciati per la firma remota sono l'82% del totale e nel 2017 sono state generate un miliardo 876 milioni eccetera eccetera di firme digitali remote cioè la firma remota è la Prassi voi andate in una riunione dei Vips e trovate solo Giovanni Manca ammesso che sia un Vips con lo smartphone 1947 è un Nokia 102 sto per acquistare un Nokia 150 se volete sapere quindi questa è stata una storia di successo irripetibile perché non si sono più venute a creare le condizioni chimiche per il mercato che non si fa solo gli affari suoi il mercato che stimola le istituzioni di vigilanza le istituzioni più tecniche all'epoca del CNIPA a fare delle cose ma quando io sono andato a bussare alle porte perché io fisicamente fisicamente sono andato a bussare alle porte ho trovato porte chiuse ma poi ho trovato porte aperte e poi ho trovato porte proattive e questo è stato un successo anche del sistema Italia perché sono cose molto specialistiche grazie alla grande azione degli standardizzatori EZI con il chairman Riccardo Genghini Andrea Caccia che partecipa ai lavori EZI e CEN Stefano Arbia che è andato a litigare in ambito della creazione dell'altro regolamento nella prima sessione abbiamo parlato del GDPR ma prima ancora ed è pienamente operativo c'è l'EIDAS che riguarda le firme e le firme remote l'Italia è riuscita a far passare la server side signature all'interno del regolamento europeo e non è che gli altri 27 stati membri hanno visto Stefano Arbia e hanno detto che caruccio il pupo no si è battuto e ha fatto sì che una dozzina di punti del CAD fossero elevati al rango di regolamento europeo e ultima questione conclusiva abbiamo avuto talmente tanto successo che è caso clamorosissimo gli esteri vengono in Italia ad acquisire il bollino blu comunitario per quanto riguarda gli apparati qualcuno perché c'era un interesse nazionale quindi ARX oggi DocuSign con una diciamo una grossa impresa di sviluppo del mercato ma oggi all'analisi ci sono state due bocciature perché il soggetto estero non aveva capito la natura del provvedimento comunitario ma oggi abbiamo in analisi di certificazione comunitaria un prodotto ungherese e un prodotto tedesco e questo è anche un grande successo e ricordiamolo per il dipartimento della comunicazione e lo sviluppo economico per la dottoressa Forzi d'accordo difesa siete stati una squadra fortissimi come dice è stata fortuna è stata abilità non lo so ho capito complimenti però le norme vanno bene così o le norme non vanno bene così perché le norme subiscono la confusione che c'è a livello politico infatti su un'altra questione di firma che è piuttosto diffusa che è la firma grafometrica noi abbiamo avuto la firma grafometrica bloccata se nel mio caso ho bussato a un ministro nonostante insomma un carattere un po' non propriamente cordialissimo è stato collaborativo per un anno abbiamo avuto bloccato il vigente di PCM 22 febbraio 2013 perché l'altro ministro non firmava perché non gliene fregava niente perché era anche clamorosamente incompetente quindi valgono i discorsi fatti in sede politica all'onorevole Coppola nella scorsa legislatura eccetera eccetera cioè sicuramente questo vale a 360 gradi lo stimolo politico è fondamentale la comprensione delle tematiche di mercato al di là delle lobby lobby sostanzialmente poi d'oltreoceano dove la firma non conta niente quindi convincere che io tentai con Microsoft però parlai anche con Balmer all'epoca ma Balmer giustamente la chiave di volta fu trascuri l'Italia veda l'Europa perché ci sarà un regolamento europeo e noi abbiamo un grosso successo anche all'estero con i player più grandi che dicono guarda la firma remota è il futuro perché è il server il futuro la firma remota è anche chiamata cloud signature e veramente concluderei la mia azione difensiva vostro onore la ringrazio difesa una difesa un po' di parte ma del resto la difesa deve essere di parte e la giuria popolare invece non lo sia prosegua proseguiamo con la difesa o scusi scusate con la giuria popolare vostro onore vostro opinione buongiorno mi riferisco facilmente a quello che è stato detto dalla difesa perché effettivamente possiamo annoverare l'evento di sviluppo della tecnologia e anche della normativa legata alla firma digitale alle firme in generale come un evento decisamente positivo vorrei però sottolineare alcuni aspetti anche con riferimento a quanto è stato detto in relazione alla firma grafometrica quindi in generale rispetto alle firme ma in particolare rispetto alle firme grafometriche alcuni aspetti allora intanto volevo segnalare che queste tecnologie questi meccanismi sono dei meccanismi che noi consideriamo giustamente trasversali cioè la giustezza dell'utilizzo di questi strumenti non è soltanto relativa all'efficacia che questi hanno ma anche è relativa ad alcuni effetti collaterali che da questi strumenti e dalla loro applicazione si hanno mi spiego noi abbiamo un grandissimo problema legato alle competenze digitali e ad avvicinare gli utenti all'uso delle tecnologie ebbene l'uso della firma e come vedremo anche l'uso della firma grafometrica come cercherò di rappresentare più in là è essenziale per avvicinare una vasta massa di utenti di utilizzatori alle moderne tecnologie ai moderni sistemi ai servizi online che vengono prodotti e che sono ormai disponibili quindi l'utilizzo di queste tecnologie non è soltanto riferita al loro specifico uso ma anche hanno una valenza più ampia ed è una valenza che noi non possiamo perdere soprattutto in Italia dove abbiamo un grande bisogno di superare il gap proprio legato al deficit di competenze digitali inoltre in Italia come giustamente è stato detto questa storia di successo vede anche altri partner che stanno lavorando e che stanno tenendo risultati importanti voi sapete che la firma come entità è un'entità straordinariamente complessa quindi quando noi appogliamo una firma grafometrica all'interno di questa firma sono raccolte informazioni legate sicuramente alla persona ma addirittura alla sua etnia al suo stato di salute alla sua cultura quindi al suo livello culturale quindi abbiamo un oggetto un'entità che è di una ricchezza straordinaria dalla quale possiamo e i ricercatori italiani stanno lavorando su questo con altri pochi ricercatori al mondo possiamo derivare informazioni preziosissime che riescono ad esempio a monitorare precocemente e in qualche modo a diagnosticare pazienti affetti da malattie neurodegenerative allora il fatto che in Italia esiste una comunità di ricerca scientifica molto collegata ad altre comunità mi riferisco ad esempio alle comunità degli esperti forensi in grado di creare valore partendo da questa entità dall'entità firma e in particolare in questo caso mi riferisco alle firme grafometriche fa sì che noi certamente si debba continuare in questo dominio quindi io voglio dire proprio in virtù degli sforzi che l'Italia ha fatto e della posizione di leader che ha a livello internazionale abbiamo di recente normato e chiudo le caratteristiche aziendali in relazione alla compliance rispetto alla 1949-4 alla norma ISO io vi chiedo di favorire la crescita di questa tecnologia nel nostro paese grazie buongiorno a tutti anzitutto vorrei chiedere a vostro onore se può ricusare l'accusa perché veramente lo sostituiamo uno più cattivo c'è uno più cattivo scherzi a parte abbiamo detto tutte cose buone sulla firma remota sulla firma digitale e così via sicuramente la firma remota è un passo avanti rispetto a quello che c'era prima però 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 c'è un però io ho una madre non più tanto giovane e ho tanti colleghi che sono molto più giovani di mia madre che non sono proprio capaci di firmare digitalmente e questo forse vuol dire che i passi avanti che abbiamo fatto fino ad oggi non sono sufficienti non è facile spesso riconoscere se una firma è valida non è facile firmare si tenta di firmare si riesce a firmare solo se si sta su applicazioni standard di workflow documentale eccetera eccetera ma se poi bisogna firmare un documento che ci ha mandato qualcuno di una banca e così via d'altronde si io mando un documento firmato digitalmente una volta feci un'iscrizione a un master della Sdabocconi sui sistemi documentali e loro mi hanno chiesto se però gliela rimandavo per fax firmata a mano questa cosa quindi oppure certe volte ci arriva il corriere che ci porta il prodottino di Amazon o di un'altra cosa noi firmiamo su un tablet e non sappiamo che cosa abbiamo firmato cioè c'è una confusione elevatissima per cui al di là del raccontarci che siamo bravi la firma digitale eccetera eccetera nella realtà nella realtà tutta questa questa tecnologia mi chiedo perché perché ormai quasi tutti mia madre ancora no però insomma i miei colleghi si riescono a premotare aerei treni viaggi e così via col telefonino col computer eccetera eccetera ma con la firma digitale proprio non ce la fanno quindi forse manca ancora qualcosa cosa manca? la semplicità non è la semplicità manca il fatto che io una penna la vedo firmo con una penna firmo ovunque e su qualsiasi supporto una firma digitale che io usi una smart card o un accessorio bluetooth piuttosto che una firma remota non riesco a firmare su qualsiasi supporto se ho firmato qualcuno non riesce a vedere che cosa ho firmato mi diceva i miei colleghi questo è un foglio c'è scritto sopra firmato digitalmente da ma come faccio a sapere come come faccio a andare a verificare se effettivamente questa copia cartacea di questo origine eccetera ma che cos'è sta scritto sul CAD lo sappiamo noi forse che siamo qua dentro ma le persone che fanno vita normale tutte queste cose non le sanno e tanto infatti quando mi chiedono mi dicono mandami il fax con la firma e si fidano di più del fax con la firma di un documento firmato digitalmente manca ancora tanto per far vedere e forse anche quando si parla di firma grafometrica andrebbero fatte molti passi avanti rispetto a questa cosa però io ho pochi minuti cosa dice però la difesa cosa dice su questi appunti beh sicuramente l'impede iniziale poi gli anni si è perso cioè siamo arrivati alla conclusione che la firma remota è diffusa eccetera eccetera però quello che dice lui è vero ma non dipende dal tema diciamo che stiamo dibattendo ma dato che è una cosa corretta la sostengo e cioè gli informatici non devono fare interfacce utenti per esempio cioè le persone di Apple che hanno fatto l'interfaccia storica dell'iPhone non erano gli informatici io ho avuto una bellissima esperienza all'università del Salento abbiamo proprio fatto l'usabilità delle firme remote però evidentemente le aziende e questo è una sacrosanta verità non intendono investire sull'usabilità ma non ci potrebbe essere un interoperabilità c'è un grosso problema di interoperabilità ti rimarchi ha ragione come difesa lo sottoscrivo ogni tanto addirittura una pubblica amministrazione locale mi ha chiesto un seminario ad hoc sulle tematiche di verifica della firma e in numerose consulenze ho contestato fortemente il messaggio firma non valida perché era clamorosamente falso ma quindi non ci potrebbe essere un intervento del regolatore Agid linee guida e cose di questo genere ci potrebbe essere lo stiamo sollecitando ma al momento non abbiamo ricevuto risposte ufficiali abbiamo ricevuto risposte informali ma se ci vado io che il suo amico Stefano Arbia non funziona ci devo andare il mercato in Diebus Illis si è presentata asso certificatori quindi la rappresentanza di tutti i soggetti che facevano mercato sulla firma digitale hanno detto scusate il dialetto a Gioha sto problema sta da risolve che è equivalente a sto matrimonio non sa da fare insomma ok quindi la situazione è chiara possiamo possiamo interpellare il pubblico giudizio popolare per fortuna che c'è qualche russo sì l'imputato firma Stoyanov del governo bulgaro vi ringrazia sì quindi insomma colgo anche la richiesta di archiviazione dell'accusa semplicemente si è prosciolto da questa accusa l'imputato firma però questo non vuol dire che tutto vada bene quindi probabilmente bisognerebbe instruire un altro processo per per migliorare l'usabilità e anche agendo sui canali quindi il popolo il mercato il popolo potrebbe agire un po' più potrebbe intervenire un po' di più magari sui regolatori anche sul mercato per migliorare questo imputato perché però effettivamente adesso è prosciolto dalle accuse l'udienza è tolta vi ringrazio e di più la mattella